L'estate sulla riviera Romagnola prosegue senza eccessi. Dopo la bomba d'acqua di due settimane fa, la bella stagione sembra finalmente iniziata. Per il prossimo weekend il sole dovrebbe splendere sulle spiagge riminesi. All'orizzonte non si profila alcuna rimonta del famigerato anticiclone africano. Il mese di luglio dovrebbe concludersi all'insegna della stabilità, ma senza ondate di calore. Approfittando delle belle giornate, turisti e cittadini si riverseranno in spiaggia. Nello scorso fine settimana sono stati diversi i decessi sulla renile, a volte dettati dalla poca attenzione sulle semplici regole da rispettare quando si frequenta la spiaggia. Io penso che qualcosa sia cambiato, nel senso che anche domenica ero in spiaggia e vedevo famiglie con bambini anche piccoli che arrivavano in spiaggia verso le 11, che arrivavano in spiaggia tardissimo nelle ore del soleone. Allora il mare è bello, la spiaggia è bella, ma va rispettato così come va rispettata la montagna. Magari i nostri genitori esageravano perché non potevamo fare il bagno prima di due ore, di aver fatto colazione. Però per chi non è abituato, per chi normalmente non vive in una città di mare, nel momento in cui c'è un mare più mosso, nel momento in cui abbiamo appena pranzato, appena cenato, ci sono alcune regole semplici che vanno rispettate. Banalmente il mare mosso è anche bello, ma rimaniamo dove l'acqua rimane alle ginocchia, non cerchiamo di allontanarci. Per cui divertiamoci, ma sempre con la testa sulle spalle e ricordando un po' quelle che erano le vecchie culture che tanto ci ha insegnato e probabilmente abbiamo bisogno di riscoprire.